Due auto finite fuori strada, una delle quali capottata. Grande spavento ieri sera a Fosso Segliore per un sinistro che ha coinvolto in totale tre autovetture. Lo scontro si è verificato alle 23.30 lungo la statale adriatica al chilometro 242. Sull'esatta dinamica stanno lavorando gli agenti della polizia stradale di Cagli che proprio in quel frangente stavano transitando sulla statale. Ma in base ai primi accertamenti pare che una Smart condotta da una fanese di 47 anni abbia urtato una Ford Focus parcheggiata e a causa del forte impatto quest'ultima è finita nella scarpata. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo, una Jaguar con a bordo un pesarese di 62 anni. È ancora da stabilire se ci sia stato uno scontro con la Smart o se l'uomo si è riuscito a schivarla. In ogni caso il mezzo si è ribaltato a lato della carreggiata. All'arrivo dei vigili del fuoco di Pesaro i conducenti erano già usciti dai veicoli e dunque i pompieri hanno provveduto soltanto alla messa in sicurezza dei mezzi. Sul posto il 118 che ha soccorso la donna è rimasta ferita in modo lieve e la polizia locale di Pesaro per l'ausilio alla viabilità. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per quasi due ore.